Un applauso, un applauso per tutte le grandi grandi persone. Gagagniamo un cinta. Sì, due grandi clown, mi fanno prendere il caffè. Sì, dai, so. C'è l'ultimo bigliettino e io a chi lo faccio pescare? Io vorrei farlo pescare a tutti. Come facciamo? Lo pesco io? Lo pesco io per tutti, posso? Sì, sì. Tenetemi. La santa biscottiera dei desideri. Non ho mai tempo di rispondere alle lettere che mi scriverai. Ogni buon momento ha la sua fine, mentre i cattivi momenti di solito perdurano, però le belle cose finiscono. La pesca è finita. Andiamo in pace. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.